Vai, video? Sì Allora, vi racconto una delle mie tante barzellette Ci sono due gay su un aereo Prendono il volo, devono arrivare in America E uno gli dice all'altro Franco, mi è venuta voglia Franco risponde Ma no, ma dai, siamo in aereo, ci possono vedere Dai, Franco, mi è venuta una voglia Ma no, dai, ci possono vedere Guarda se ci vede qualcuno Dai, Franco, mi è venuta una voglia Allora, incomincia a guardare nei sedili Guarda se qualcuno è sveglio Franco, dormono tutti tutti Dai, lo facciamo Prova ad alzare la mano, vedi se c'è l'hostess Alza la mano, dice No, Franco, non c'è nemmeno l'hostess Va bene, facciamolo Franco e l'altro per tutta la sera I, O, A, U, E I, O, A, U, E Arriva al mattino Passa l'hostess Vada tutti i passeggeri Avete passato bene, abbiamo dormito Vabbè sentito un rumore Vada i due gay Avete fatto qualcosa Vi siete divertiti Sì, si è stato svegli tutta la notte Non vi raccontiamo Ma è stato fantastico Passa da una vecchietta Questa mal di pancia Dolori alle ossa Artrite, artrosi C'era un po' di tutto Stava malissimo Fa signora, ma sta bene Vuole qualcosa Perché non ha alzato la mano ieri sera Se non si sentiva bene Fa l'ultimo che ha alzato la mano L'hanno inculato tutta la notte Andiamo da Andiamo da Andiamo da